Devi stare molto attento a che tipo di prodotto vai a utilizzare sui tuoi impianti e sui tuoi macchinari. Naturalmente c'è una netta differenza se utilizzare un tipo di prodotto dall'altro, perché questo potrebbe cambiarti la vita nel momento in cui vai a sviluppare questi progetti da così a così. Ciao e benvenuto all'interno di questo nuovo video, sono Strongo Alessandro, programmatore PLCS e oggi andremo a scoprire come mai un prodotto del genere, che naturalmente ora ho una bottiglia dove vado a inserire dell'acqua, ma tu potresti avere qualsiasi cosa sul tuo tavolo, prendilo e pensa a chi va a produrlo a livello industriale, come quello potrebbe cambiare comportamento nel momento in cui cambia lo suo aspetto fisico. Di cosa sto parlando? Innanzitutto sto parlando che se ancora non ti sei iscritto e stai affrontando il mondo della programmazione PLC partendo da zero, quindi non hai esperienze, non hai nessuna guida, non hai nessun tecnico, non hai un amico, non hai nessuno che ti può aiutare, allora mi raccomando iscriviti, attiva la campanellina e metti like nel momento in cui riesci a capire che questo progetto potrebbe essere utile per i tuoi scopi. Quindi clicca. Allora partiamo da zero, perché dobbiamo identificare il tipo di prodotto? Il tipo di prodotto ci può permettere di capire tantissime cose, soprattutto ci permette di capire come noi dobbiamo sviluppare il software, come tu devi sviluppare il software per poterlo portare a termine. Ricordiamoci sempre una cosa ragazzi, il prodotto del nostro cliente parte sempre da un punto A e deve arrivare al punto B. Molto semplice, non deve fare nient'altro. Che mi entra un impianto, che mi entra una macchina, il prodotto deve essere sempre lavorato. Quindi entrerà da un lato o da diversi lati di ingresso, va bene lo stesso, verrà elaborato, elaborato e lavorato e poi da lì uscirà. Questo poi dovrà andare a o al cliente finale o andare ad altri impianti intermedi che dovranno fare ulteriori lavorazioni sul tipo di prodotto. Naturalmente ogni impianto ha i suoi pro e i suoi contro, casomai fanno cose specifiche, invece ci sono impianti che fanno tutto insieme e va benissimo. Quello che dobbiamo capire è che se questo tipo di prodotto, come in questo caso la bottiglia, che lo senti come ciocca, fa anche male se uno te la tira contro, la vai a utilizzare e io vado a programmare e sviluppare il programma per questa bottiglia, allora io utilizzerò determinati criteri per far sì che questa bottiglia parti da un lato e arriva dall'altra parte. Naturalmente deve arrivarmi in determinate maniere, in determinate condizioni e in determinate posizioni. Questo vuol dire che se la bottiglia entra dritta deve uscirmi dritta, a meno che io non ho bisogno di farla arrivare storta, a meno che io non ho bisogno di farla arrivare in qualsiasi altro verso, ok? L'obiettivo è sempre quello, come mi entra? Lo devo far uscire ma deve essere integra, il cliente vuole il prodotto che sia sano, non deve essere un prodotto ammaccato, non deve essere un prodotto danneggiato, non deve avere difetti, naturalmente ci potrebbero essere dei minimi difetti, lo sappiamo benissimo. Minimi, 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 qualcosa ci sarà sempre perché se non abbiamo... dello sfregamento, se ci sarà qualche ammaccatura che casomai all'utente l'operatore è scappato alla vista, però naturalmente non si può fare di tutto e di più, si cerca di fare il massimo, ma naturalmente ci saranno sempre dei limiti che non riusciremo mai a superare. La cosa importante, e tre volte che lo dico importante, è sulla forma e la consistenza, il peso, le caratteristiche principali di quello che potrebbe essere un prodotto. Se noi andiamo a ipotizzare non tanto la bottiglia ma anche un qualcos'altro, per esempio, andiamo a ipotizzare un tank, un tank dove, un contenitore se uno dovesse sapere cos'è un tank, una cisterna dove all'interno io vado a rilasciare e a versare o riempire con del liquido. Il liquido potrebbe essere caldo o freddo. Ecco, secondo te questa qua potrebbe essere una differenza? Se io di solito devo inserire del prodotto freddo, ma a un certo punto mi arriva caldo, io me ne devo accorgermi? Capita qualcosa? Capita qualcosa alla parte meccanica? La parte elettrica riesci a riconoscerlo? Se in questo caso io dovevo avere l'acqua a 20 gradi, invece mi arriva a 30, ho qualche disturbo sulla componentistica? Un'altra domanda? Se devo iniziare a farmi un sacco di riflessioni. Riflessioni che naturalmente uno potrebbe lasciare andare, essere abbastanza superficiale, dire come mi entra, mi entra, io lo prendo, lo lavoro. È vero, ci sono certi macchinari, certi progetti dove il prodotto come ti arriva, tu lo prendi, lo vai a lavorare, poi come esce, esce. È vero, però nel momento in cui tu devi fare un servizio al tuo cliente, creare un qualcosa di personalizzato, iniziare a dire, ok perfetto, io voglio che mi entra le patatine nella friggitrice. Perfetto, le patatine hanno una determinata dimensione, quella dimensione deve essere lanciata direttamente in friggitrice, poi attraverso il nastro deve essere portato fuori e l'olio deve avere una determinata temperatura. Quel tipo di olio che viene sempre acquistato per friggere questa patatina deve avere una determinata consistenza, densità, temperatura, per portarla naturalmente in cottura. Se io sbaglio la temperatura, è un casino. Se io sbaglio l'olio, ne metto un altro di una marca diversa che potrebbe essere simile, ma il punto in cui io voglio quella temperatura e non riesco mai ad azzeccarlo, quindi non azzecco mai la temperatura di cottura, ecco che lì è un casino. La patatina invece che venirmi fuori fritta bene, mi viene fuori fritta di più, di meno. Prova a immaginarti, vai al supermercato, prendi una patatina da un euro, quel sacchettino, la vai ad assaggiare e fa schifo, ok? Non perché la patata faccia schifo, ma perché casomai la sua lavorazione in mezzo è venuta malissimo. Questa è stata colpa di chi? Di colpa del cliente che non ha preso il materiale giusto? Sì, è vero, da un certo punto di vista potrebbe anche starci. Ma la tua strumentazione riesce a capire il perché quell'olio non era perfetto o perché non era in temperatura? Quindi qui dobbiamo iniziare tutto a capire di chi è il problema, ma non per puntare il dito, ma per trovare delle soluzioni. Quindi se l'olio è stato cambiato, perché tu a programma non l'hai portato lo stesso a temperatura? Non ti sei assicurato che la temperatura di cottura sia quella nel range prestabilito? E invece tu sei andato in cottura subito con le patatine e fregandone perché avevi della produzione da fare? Se uno va a produrre quintalate, quintalate, tonnellate di patatine e lo va a smerciare in tutta Italia o in tutto il mondo, è un vero casino. Quando le cose sono fatte male e poi si disperdono e in più sono state vendute perché qualcuno le ha acquistate per forza di cose, dopo ti trovi la roba che ti torna indietro e un cliente incazzato tanto che ti fa un bucio di culo perché naturalmente non sono state rispettate certe direttive. Naturalmente lui lo dava anche per scontato perché uno dice se ti dico che denare ha 70 gradi sparo un numero a caso e tu eri 71, 70,5, ok? Se devi essere lì, devi cercare di essere lì. Naturalmente ci sono dei pro e contro, ci sono dei limiti, l'ho sempre detto, lo dico sempre, ci sono certi aspetti che si possono prevedere, prevenire e si riescono anche a curare, ma c'è altre cose. Non si riesce a risolvere il livello di programma, bisogna lavorare su determinate caratteristiche che credo ormai che il programma non c'entra in niente. Cambiamo materiale, cambiamo l'aspetto meccanico, cambiamo l'aspetto elettrico, quindi dobbiamo far sì che questi elementi possano cooperare, cooperare, collaborare fra di loro e non essere in competizione. Naturalmente ci sta, ci sta che cosa? Ci sta nel punto di vista, se io parto da zero, non ho esperienze, come faccio a sapere tutte queste cose? Molto semplice. Quindi iscrivendo in commenti troverai un link che ti aiuterà, soprattutto perché lì ci sono delle video lezioni totalmente gratuite che ti vanno a spiegare proprio come fare i primi passi da programmatore PLC, per poi andare ad agire e iniziare a pensare col tuo cervello, con quel criceto che ci gira nella testa che inizia a dire ok perfetto, questa cosa deve essere fatta così perché c'è un determinato motivo tale per cui questa cosa deve essere fatta così. Quindi mi raccomando, non fartelo scappare, utilizzalo adesso. Ciao.